Un buon pomeriggio agli amici di Ant.it, un buon pomeriggio e un bentornata alla collection atletica Siamo in Tue e Tronto, che questa sera anziché il presidente è venuto il team manager e l'amico Stefano Cavezzi, buonasera Stefano, insieme alla neocampionessa Emma Silvestri, che sta già promesso che stasera dirà qualcosa in più, campionessa cadetta a Sulmona, campionessa italiana di 1200 siepi, poi abbiamo Anna Mancina, allenatrice, e abbiamo un altro volto che è il ragazzo Emanuele Mancini, che ha anche esso molto bravo negli ostacoli, poi dopo lo sentiremo. Stefano, diciamo che noi come ianti abbiamo portato fortuna, ma un po' me lo sentivo, perché, come ti ho detto, per andare in onda, di solito atleti o atlete che parlano poco sono quelli che fanno i fatti, non mi ero sbagliato. Esattamente, ci hai portato fortuna, perché appunto il titolo italiano vinto da Emma è stata la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria, una stagione che, tra l'altro, non so se te l'ho mai detto, quest'anno è il decennale della collection atletica San Benedettese. E devo dirti che, considerando tutto quello che è avvenuto ad aprile ad oggi, considerando anche i campionati di staffette che ci sono stati recentemente e che abbiamo letteralmente dominato, siamo veramente felicissimi. Stiamo scrivendo delle straordinarie pagine della storia dell'Atletica San Benedettese e il patriarca Gabriele Cavezzi. E' molto orgoglioso di noi. E questo, devo dirti, grazie a un lavoro straordinario che i tecnici stanno facendo, a partire da Anna, che è qui presente. Allora, sentiamola, Emma, giustamente perché io gli ho detto prima di andare in onda che volevo che parlasse un po' di più, però in assoluto i complimenti perché vincere un titolo italiano all'età giovanissima, su una categoria che sicuramente adesso andrei a migliorare di anno in anno perché crescendo, non so, ti faccio questa domanda, proseguirai nei siepi oppure ti vuoi dedicare al mezzofondo? Non lo so, però credo mezzofondo e siepi, tutte e due. Tutte e due. Allora, sulla vittoria di Sulmona, temivi qualcuno in particolare, almeno per quelle che era le gare, qualcuna che conoscevi, quindi sapevi che potevi, non so, avere dei problemi da quell'atleta o meno? Sì, una ragazza che era accreditata terza. Però mi è stato detto che, a meno da cui sono state le croniche, che hai avuto anche un grande tempo, oltre ad aver vinto, o no? Sì, però non ho migliorato. Non l'hai migliorato, però è uno dei migliori che hai fatto in questi ultimi tempi. Senti, dopo per il futuro te lo chiedo dopo. Sentiamo Anna Mancini, ecco, quanto tempo impieghi per questi ragazzi, perché tu vieni dall'atletica, come altri allenatori come te, diciamo ecco, perché per riuscire ad ottenere risultati del genere ci vuole tanto lavoro. Beh, sì, l'importante è poi trovare anche i ragazzi che hanno voglia di farlo, questo tipo di lavoro. Io sono soddisfatta anche per il fatto che io e Patrizia, la mia collega, dove noi lavoriamo soprattutto con la categoria giovanile e abbiamo creato proprio un gruppo molto affiatato, i ragazzi vengono a campo sempre abbastanza volenterosi, per cui abbiamo riscosso più di un successo, oltre a loro due. Ecco, prima di andare in onda mi dicevi che già da piccoli hanno delle gare sulle quali cimentarsi, quindi da lì si può già partire e vedere quali sono quelle più adatte al ragazzo. Sì, nella regione Marche la FIDAL ha organizzato da parecchi anni, le gare si chiamano i Cinque Cerchi, dove la categoria ragazzi partecipa. Devono cimentarsi in tutte le specialità, dalla corsa veloce al fondo e ai salti, ai lanci. Un po' quello che è da grande per le donne l'Heptathlon e per gli uomini il Decathlon, insomma. Sì, esattamente. Poi quando diventano cadetti, lì si vede dove possono cimentarsi. Quelle sono le gare più attinenti, certo, certo. Grazie. Sentiamo Emanuele, allora, sugli ostacoli quali sono le gare che prediligi, visto che sei già abbastanza accreditato? Allora, innanzitutto, buonasera. Sugli ostacoli faccio i 60 metri ostacoli, ho 9-11, sono primo nelle Marche e sesto in Italia come accredito. Età? Quanti anni hai Emanuele? Ho 13 anni. Quindi sicuramente potremmo rivedere l'Eddi Otoz che ce lo siamo dimenticati, perché a livello nazionale non abbiamo più grandi campioni, tu hai capito di chi sto parlando? Assolutamente, bronzo alle Olimpiadi del Messico City del 68, mi fa piacere che te lo ricordi. Sono appassionato di sport. Vai Emanuele. Quest'anno sono riuscito a raggiungere grandi obiettivi e ho vinto 4 titoli regionali sui 60 ostacoli, 60 piani, svedese e staffetta 4%. E inoltre con la scuola sono arrivato quarto negli 80 metri ostacoli a Desenzano. Ascolta Emanuele, quante ore impieghi di allenamento che giustamente riesci a conciliare con la scuola? Allora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza e tre volte a settimana. Quindi vabbè, giustamente riesci poi, quando vanno a seconda, quando c'è delle gare, sicuramente andrai anche a stringere maggiormente gli allenamenti. Questo è nell'arco dei mesi tranquilli, come adesso andiamo verso l'inverno, quindi hai un discorso diverso di allenamento rispetto a quando hai da preparare delle gare. giusto? Sì. Prossimi impegni in primavera? No, ora il 20 novembre ho i cinque cerchi, come diceva Anna, è la quinta tappa e dovrò fare i mille. Dove? Ad Ancona e al Palaindor. Quindi sicuramente aspettiamo anche qualche evento, poi dopo sicuramente arriverà una con l'escio, prima di Natale facciamo un bilancio di anno con tutti questi campioni. Senz'altro, sì, sì. Torno per un attimo anche su Emma, considera che nella categoria cadette, allora, prima cosa, lei è primo anno cadetta, quindi ha già ottenuto questo titolo nazionale pur essendo, avendo un anno di meno di altre che competevano nella categoria. Prima cosa è che è strabiliante, la seconda cosa è che lei, purtroppo i campionati italiani cadetti ti limitano a una sola disciplina, a una sola gara e non ne puoi fare più di una, invece dagli allievi in su ne puoi fare anche due campioni italiani. Lei, detto obiettivamente, se avesse potuto bissare la gara, cimentarsi anche nei mille metri o anche nel Pentatron, dove era la seconda in Italia, lei avrebbe potuto vincere tranquillamente un secondo titolo italiano. Quindi questa è una regola nazionale, come dici tu? Sì, sì, nella categoria cadetti, quando c'è il campionato italiano, purtroppo si può fare una sola gara, ma lei era una che avrebbe stravinto anche i mille metri ed è primo anno cadetta, quindi il prossimo anno è ancora cadetta, quindi veramente ancora deve esprimersi al meglio e ci raderà, presumo, grandi soddisfazioni. Aspettiamo che crescia allora. Assolutamente. Grazie Emanuele, in bocca al lupo, qui sicuramente dopo ci farei sapere come è andata, ok? Emma, quante ore impieghi... No, scusa, Anna, scusa. Quante ore dedichi durante la giornata o durante la settimana a questi ragazzi? Guarda, noi stiamo al campo tutti i giorni. Lavoriamo con la categoria esordienti, con i ragazzi e con i cadetti. Qui tutti i pomeriggi? Tutti i pomeriggi, sì, sì. Qui la scuola al mattino, pomeriggio giù. Senti, le nostre strutture, ne parlavo l'altra volta con il presidente Ruggeri, c'è qualche possibilità di poter accrescere? Ogni tanto l'amministrazione comunale, adesso l'antrano si rivota, parla sempre di migliorare le nostre strutture, però abbiamo problemi con la pista Panfili, con la piscina, con la pista d'atletica. Si dice, si dice, ma purtroppo da fare c'è stato tanto. Sì, io spero che per il prossimo anno la mettono un po' a posto questa pista, anche perché ti trova in uno stato piuttosto... Ma anche per poter cercare di rifare qualcosa a livello, insomma... Sì, anche a livello di manifestazioni. Esatto, che mancano da anni, esatto. Sì, poi San Benedetto è una città con diverse strutture alberghiere di ricezione che sono molto... Può ospitare eventi importanti. Sì, sì. Buon lavoro Emma, poi dopo sentiamo Emma. Allora, adesso l'ha previsto che, adesso giustamente ti starai godendo questo titolo e ti prepari l'inverno per la prossima primavera, o no? Sì. Ecco, oltre al sì, quante ore dedichi adesso? Quante ore fai di allenamento? Sì, è l'attività campessa e l'attività indoor, quindi secondo me già la rivedremo in azione a gennaio. Ecco, quindi è il primo modo di rivedere anche Emma. Allora, complimenti ancora e ci devi promettere di parlare un po' di più. Adesso, mano a mano che vinci i titoli, a seconda di i titoli di parlare. Bravo. Grazie, complimenti. Chiudiamo con Stefano. Prego. Giustamente d'inverno, prego, giustamente quelle che sono le gare indoor, le campestri, quindi diciamo c'è un movimento quasi tutto l'anno, anche se un po' il tempo, ci sono le strutture indoor che ti permettono di fare certi eventi, però non è che hai quasi la quotidianità che ti può dare l'aperto. Esatto, fai conto che nell'arco di 12 mesi, gli unici mesi in cui veramente non accade praticamente nulla sono novembre e dicembre. A gennaio c'è l'attività invernale, viene cosiddetta, che riguarda appunto gare al coperto e campestri, quindi cross country, eccetera, che sono proprio ideologi poi per la stagione all'aperto che inizia ad aprile. E niente, noi, il problema sai Carlo, che ogni volta noi abbiamo delle stagioni straordinarie e allora il team deve dire, ma come facciamo il prossimo anno? Perché se uno va a analizzare quello che abbiamo fatto quest'anno e io penso, ma il prossimo che potrò fare di meglio, divento pazzo, eppure ogni volta ci riusciamo. Anche grazie, ripeto, a un movimento che giustamente sottolineava Anna, che è molto coeso, ma devi vedere la gioia, la partecipazione, il contributo tangibile dei genitori. Noi quando ci spostiamo siamo numerosi e rumorosi. Cioè, guarda, c'è una... Vabbè, il coinvolgere le famiglie penso che sia importante anche per i ragazzi stessi. Cioè, se tu vai nelle gare atletica, noi ci distinguiamo perché veramente c'è stato anche un coinvolgimento, sarà forse perché siamo vincenti e allora loro vogliono partecipare. C'è, esatto, c'è un coinvolgimento maggio. C'è anche per quello, però ti giuro, è veramente commovente. L'ultima trasferta domenica al Memorial Mirabile, che abbiamo vinto a livello maschile, femminile e globale, erano i campionati di staffette giovanili. Dove? A Macerata. Abbiamo vinto sei ori su dodici. Abbiamo vinto il campionato di società regionale cadetti, cadette, ragazzi e ragazze per un soffio non l'abbiamo vinto. Quindi un dominio imbarazzante. Poi, voglio dire, speriamo di continuare su questa strada. Io ve lo auguro, innanzitutto vi faccio i complimenti e l'imbocca loro per le prossime gare, a partire da quella che ci avrà se Emanuele il 20 novembre. Poi avremo modo di risentirci perché tu sai che il nostro salotto per gli amici e per chi fa dello sport sano è sempre aperto. E noi ti ringraziamo, è sempre un grande piacere. Il piacere è sempre mio. Grazie e buon lavoro a tutti. Complimenti ancora a Emma. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.